Allora, credo che ci sia dal nostro punto di vista la volontà di fatto di non permettere una manifestazione all'interno del cimitero, però siamo altrettanto coscienti che non si può abietare l'ingresso al cimitero, quindi ci affidiamo anche il buon senso e la responsabilità. Non crediamo che una manifestazione sia la cosa necessaria, sappiamo che però ci saranno persone che si raduneranno, quindi sarà una gestione attenta da parte del prefetto.